Cody Landin, esperto di sopravvivenza primitiva. Il suo approccio, 100% naturale. Io sono sempre attento a madre natura. Cerco di agire per lei e non contro di lei. Le sue scarpe, facoltative. Così mi sento più in armonia con il pianeta. Io non voglio sopravvivere, voglio vivere. Il suo peggior incubo, questo tizio. Non riesco a capire come sei potuto venire fin qui senza scarpe. Mi fai saltare i nervi. Due uomini, due stili e una sfida. Sopravvivere insieme. Dual Survival, una nuova serie. Ogni giovedì alle 22.55 su D-MAX. Dieci anni fa debuttavo in Italia a Dual Survival, serie televisiva sulla sopravvivenza di Discovery Channel, destinata a lasciare un segno nei cuori e nelle menti di molti appassionati, me compreso. La sera in cui andò in onda su D-MAX, la prima puntata della prima stagione, io ovviamente ero a casa, incollato al televisore. Da giorni circolava lo spot che avete appena visto e la curiosità era ai massimi livelli. Oggi, a dieci anni di distanza, sono tornato per raccontarvi come è andata. Quindi, mega riassunto, ma non solo, della prima puntata di Dual Survival. Io sono Livio e questo è il Mondi Selvaggi. Sul finire del primo decennio del 2000 erano già diversi gli show a tema survival che erano passati per la TV e dei quali si discuteva anche sui forum italiani. C'era Bushcraft di Ray Mears, Ray Mears che aveva condotto programmi televisivi in Gran Bretagna fin dagli anni 90. Si parlava di Survivorman, lo show in prima persona di Let's Trout, ma si parlava anche e soprattutto di Bear Grylls. Con Bear Grylls la sopravvivenza diventa mainstream. Il suo programma riscuote un incredibile successo e nello stesso tempo una valanga di critiche grazie al suo stile decisamente spettacolare e a tratti anche esagerato. Ricordo che vedi per la prima volta delle sequenze dello show di Bear Grylls all'interno di un programma che si chiamava Wild, oltre natura, condotto da Fiammetta Cicogna su Italia 1. Sarà stato più o meno il 2010. Comunque avevo già sentito parlare di lui, alcune delle sue imprese erano già diventate virali su internet. Lui che se magna la palla di insetti, lui che sventra il cammello, estrae le viscere e lo utilizza come rifugio improvvisato, insomma cosettine così, un tantirello sopra le righe. In questo scenario irrompe Dual Survival che si presenta fin da subito come uno show leggermente diverso. Il protagonista non è uno solo, ci sono ben due esperti di sopravvivenza a condurre il programma i quali hanno due filosofie completamente differenti. Dave Canterbury ha un background di tipo militare, ha svolto diverse professioni legate all'outdoor, ha una scuola di sopravvivenza e sta riscuotendo un discreto successo pubblicando su internet dei filmati nei quali insegna come sopravvivere nei boschi. Cody Landin è tutto il contrario, una specie di hippie con le trecce che va in giro a piedi scalzi anche d'inverno. Vive in Arizona, in una casa autopostruita, e insegna tecniche di sopravvivenza primitiva nel deserto. Sono due personaggi ancora sconosciuti in Italia in quel periodo, ricordo che quello che mi fece maggiore impressione fu sicuramente Cody Landin per il modo in cui si presentava. Si capisce subito qual è lo scopo dello show. Parlare di sopravvivenza senza esagerare troppo con lo spettacolo e nello stesso tempo creare delle situazioni divertenti per lo spettatore andando a giocare proprio sull'enorme differenza di vedute che c'è tra Dave e Cody i quali inevitabilmente andranno a bisticciare nel corso della sfida. Trovo che Dual Survival sia un programma veramente ben riuscito almeno per quanto riguarda le prime due stagioni. Io sono del parere che qualunque sia l'argomento trattato non si debba prendere ad esempio gli show televisivi perché sono prodotti pensati per l'intrattenimento con tutto ciò che ne consegue. Devo ammettere però che Dual Survival è un programma dal quale si può effettivamente imparare qualcosa perché è molto equilibrato, c'è poca spettacolarizzazione e le nozioni che vengono presentate sono a mio avviso nozioni che possono effettivamente tornare utili anche in una situazione reale. Se vogliamo parlare del fattore intrattenimento secondo me il programma fa centro anche lì. La coppia Canterbury-Landine funziona alla grande i siparietti che si creano tra i due sono sempre divertenti e nonostante ci siano divergenze in merito alle strategie di sopravvivenza da adottare di volta in volta. Non si arriva mai ad uno scontro non si arriva mai a discussioni esagerate ad un punto di rottura come invece succederà qualche anno più tardi tra Cody Landine e Giottetai ma questa è un'altra storia. Insomma due personaggi tecnicamente molto preparati ma nello stesso tempo anche adatti allo schermo ai quali ci si affeziona fin da subito. Io tra l'altro ho avuto la fortuna di conoscere dei Canterbury di incontrarlo di persona entrambe le volte che è venuto in Italia nel 2016 e poi nel 2019. Devo confessare che incontrare dal vivo un personaggio televisivo che avevo seguito con interesse è stato veramente emozionante. Ho comprato il DVD della prima stagione ragazzi non potevo lasciarmelo scappare c'è anche il logo di D-Max sopra. Il problema è che si vede malissimo credo non sia neanche in HD e sinceramente non riesco a spiegarmi questa cosa. Ad ogni modo estrapolerò delle immagini e dei piccoli segmenti di video che mi aiuteranno a raccontarvi la prima puntata della prima stagione spero di non incorrere in problemi di copyright. Dave e Cody sono in Canada sulle coste della Nuova Scozia per vestire i panni dei due naufraghi e mostrare come si sopravvive in una situazione del genere. Dopo aver abbandonato una barca in avaria a bordo di una zattera di salvataggio a Prodano su un'isoletta deserta. È gennaio, fa un freddo cane e gli unici oggetti che hanno a disposizione a parte la zattera stessa sono un coltello un telo di plastica una coperta in mylar e una pistola lanciarazzi con un solo colpo in canna. Voglio fare un gioco con voi ragazzi molto semplice immaginate di trovarvi nei panni di Dave e Cody nella situazione che vi ho appena descritto e di avere a disposizione gli stessi oggetti che hanno loro. Qual è la prima cosa che fareste? Stoppate un attimo il video e scrivetemelo qui sotto nei commenti dopo di che andiamo avanti. In una situazione di sopravvivenza bisogna darsi delle priorità in sostanza bisogna chiedersi qual è il pericolo più imminente? Cosa che può uccidermi più rapidamente? E iniziare a difendersi da quella cosa lì. In una situazione come quella in cui si trovano i nostri eroi il nemico numero uno è sicuramente il freddo. Con temperature sotto lo zero e condizioni meteorologiche avverse si può morire di freddo nel giro di poco tempo quindi la priorità è togliersi dalla spiaggia e trovare un riparo. Dave e Cody entrano nella boscaglia e cercano un riparo naturale un qualcosa che sia il più possibile già pronto in modo da risparmiare tempo ed energie. Il sole sta per tramontare e prima che faccia buio devono pensare anche a come accendere un fuoco che in combinazione con il rifugio gli permetterà di passare la notte in sicurezza. Trovano un albero caduto le cui radici formano una specie di tettoia. Non è proprio il massimo ma decidono di fermarsi lì. Dave che indossa le scarpe e quindi può muoversi più agevolmente si occupa di trovare della legna asciutta mentre Cody che ha scelto di partecipare alla sfida indossando solamente dei calzoncini e dei calzettoni di lana inizia ad allestire il campo. È tutto fratico quindi di accendere il fuoco per frizione non se ne parla l'unica opzione rimane quella del razzo di segnalazione ma se la dischiano perché dura poco hanno un solo colpo a disposizione e hanno per le mani solamente legna umida. Alla fine ci riescono perché sono dei super fighi. Segue un simpatico siparietto in cui i due discutono della scelta di Cody di presentarsi scalzo alla sfida dopodiché tutti a dormire. Il mattino dopo fa ancora più freddo e la situazione resta critica. I nostri amici si dividono i compiti Cody cercherà di migliorare il rifugio mentre Dave si occuperà di un altro aspetto molto importante in una situazione di emergenza ossia la segnalazione un modo in cui segnalare la propria presenza ai soccorritori. In questo caso Dave opta per un fuoco quindi un segnale di tipo visivo lo posiziona sulla spiaggia in un punto aperto dove possa facilmente essere avvistato da eventuali navi di passaggio. Il fuoco di segnalazione deve poter essere acceso in maniera molto rapida quando passa la nave con un tizzone portato dal campo. C'è bisogno di legna secca ma anche di materiale particolarmente infiammabile che possa prendere fuoco rapidamente come ad esempio la corteccia di Bedulla. Nel frattempo al campo succede questo. Vorrei allestire questo rifugio utilizzando le leggi della fisica per renderlo più efficiente. Questo è l'esatto istante in cui ho pensato quest'uomo è un mito e Dual Survival è la serie più bella mai prodotta. In pratica cosa sta facendo? Costruisce un ambiente chiuso in cui intrappolare il calore. Avete presente quando l'estate lasciate la macchina al sole e all'interno diventa un forno? Stessa identica cosa. Il calore irradiato dal fuoco che è posto all'esterno penetra all'interno del rifugio attraverso il telo di plastica trasparente e una volta che viene riflesso dalla coperta di Mylar non riesce più ad uscire. In questo modo si ha un rifugio caldo con un dispegno di legna minimo. Questo è uno dei tanti esempi di idee molto interessanti che possono essere estrapolate da questo programma. Adoro quando mi fanno vedere come oggetti semplici possono essere utilizzati in maniera funzionale alla sopravvivenza in questo caso alla prevenzione dell'ipotermia. Una delle cose che più mi diverte di questa prima puntata ma che poi ritroveremo anche nelle puntate successive è l'enorme differenza che c'è tra Dave e Cody non solo come scuola di pensiero ma anche come posso dire all'atto pratico. Cody si muove praticamente a rallentatore lui risparmia le energie si adatta. Dave fa cataste di legna raccoglie cose prepara le esche recupera materiale dalla scialuppa trova l'acqua potabile la raccoglie miliardi di cose tutte a cannone. Vogliamo parlare del cibo? Dell'approccio che questi due hanno nei confronti del cibo in una situazione di sopravvivenza? Cody mangia i molluschi Dave utilizza quegli stessi molluschi come esca per le sue trappole. Fantastico. Cody mangia anche le albe arriva la sera del secondo giorno momento della cena succede più o meno questo abbiamo delle fantastiche vongole biologiche fanno schifo io voglio la carne Dave non è soddisfatto dei molluschi per cui decide di allontanarsi dal campo con il buio per andare a controllare se per caso qualche animale è caduto nelle sue trappole per fare luce improvvisa una torcia utilizzando la pagaglia e un rotolo di corteccia di betulla è una scelta abbastanza azzardata in una situazione come la loro e Cody non è affatto contento per niente che vuoi fare rischiare la tua incolumità e il mio c***o per andartene a f***o in questa notte buia a controllare le tue trappole del c***o Dave si avventura comunque nella notte ma le trappole risultano essere vuote quindi ritorna rapidamente al campo dove i due discutono nuovamente sull'opportunità di fare determinate scelte sull'opportunità di correre determinati rischi in una situazione di sopravvivenza quando si fa l'ora di andare a dormire Cody può finalmente dimostrare la validità del suo rifugio Dave era scettico inizialmente ma quando entra rimane colpito perché ci sono 22 gradi contro i meno 2 esterni si ricrede e ammette che quello è il rifugio invernale più caldo in cui abbia mai dormito mattina del terzo giorno la temperatura è scesa di 10 gradi durante la notte e ha pure nevigato Dave si mette subito sulle tracce di un porco spiro e con un'azione rocambolesca riesce a catturarlo questa è forse la parte meno realistica di tutta la puntata io non mi ci vedrei proprio a correre a pressa un animale in una situazione di emergenza sia perché prima di morire di fame ce ne passa di giorni sia perché sull'isola ci sono altre fonti di cibo sebbene meno gustose d'altra parte capisco pure che si tratta di uno show di sopravvivenza e si voglia parlare anche di caccia c'è anche da dire che Dave Canterbury è un cacciatore esperto e quindi prima di mettersi a correre a pressa un porco spiro sa valutare se la spesa vale l'impresa perché la sopravvivenza si gioca su quello le calorie fornite dalla preda devono ovviamente superare quelle spese per catturarla mentre Dave ha le prese con il roditore Cody va ad accendere il fuoco di segnalazione sulla spiaggia si serve dell'infiorescenza della Tifa come mezzo per trasportare letteralmente il fuoco da un punto all'altro la Tifa ha un'infiorescenza molto compatta che brucia come un tizzone si possono utilizzare per fare la stessa cosa anche alcune varietà di funghi lignicoli è una tecnica utilizzata fin dalla preistoria i nostri eroi si ritrovano al campo base ed è la volta di Dave di stupire Cody con il porco spino pronto da cuocere sul fuoco i due hanno finalmente qualcosa di sostanzioso da mettere nello stomaco si abbracciano consumano la carne e il cuore del porco spino e viva e viva tutti felici e contenti la mattina del quarto giorno i baldi giovani avvistano finalmente una nave della guardia costiera canadese e ne attirano l'attenzione con il fuoco e con il fumo siamo grandi siamo super fighi abbracci notevoli e si torna tutti a casa e così si conclude la prima puntata di Dual Survival uno show ragazzi che torna a ripetere a me è piaciuto tantissimo all'epoca e che piace tuttora fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate voi se siete degli appassionati di sopravvivenza fatemi sapere quale approccio preferite tra quello di Dave e quello di Cody e magari datemi dei suggerimenti per le prossime puntate ci si vede al prossimo appuntamento con Mondi Selvaggi grazie per essere stati con me grazie a tutti